È la quarta finale dell'Europa Cup, il primo leggo di Turfmoor Burnley e Burnley in le bianche bianche per farlo, sono i fan che hanno fatto la lunga giornata per guardare questa squadra che non vengono. Ci sono voluti 51 lunghissimi anni d'attesa prima che i tifosi del Burnley potessero vedere la propria squadra giocare a una competizione europea. L'ultima volta, nella stagione 1966-67, il calcio era quasi un altro sport. Le Coppe europee avevano formule e regolamenti totalmente diversi da quelli attuali. Turfmoor ribolle, è un catino pronto ad esplodere e godersi la tanto attesa già europea. L'unico ostacolo da superare si chiama Averdine FC, storico club scozzese che negli ultimi anni in patria ha più volte provato ad insidiare il dominio incontrastato del Celtic. Tra i primi locali a riempirsi in una Barley che custodisce il proprio spirito lavorativo e vede il proprio panorama dominato da fabbriche e industrie, c'è il The Royal Dyche, un pub a meno di 500 metri dallo stadio che porta il nome dell'amattissimo allenatore del club. Sean Dyche qui è un mito destinato a rimanere a lungo nel cuore dei tifosi. E raccontarcelo è proprio Justin, una delle manager che gestiscono il pub. Un pub però non sarebbe nulla senza i suoi clienti. Per questo motivo ci è sembrato opportuno ascoltare le opinioni di coloro che il The Royal Dyche lo chiamano casa sin da quando era ancora denominato The Princess Royal. Get us promoted to the Premiership and you can drink in this pub for free. And then get us into Europe, we'll change the pub name. We never thought it'd happen. He's a man of the people. Yeah, a man of the people. A lot to say with the plants and speak with them. Yeah, that's why this place changed its name to him. I thought, A, I didn't think I'd see Burnley in the Premiership at all. Sean Dyche comes in, he brings us up, keeps us up. He has a very workmanlike ethic, very much about the team. Yeah, he's been here five and a half years now and just the job that he's done at the minute with Burnley is brilliant. I used care when, you know, a big fan base camp here for a match. Not at all, it adds to the atmosphere. I think everybody respects and everybody just wants to have a good time. You've got your fans who are really die hard, you know, the other team. But I must say, I was in Aberdeen for two days last week and we were made very, very welcome. If some of them were even left the day before, they would have traveled about nine hours before reaching the city of Burnley. Here we seem to have a community, but I think you have more communities because Burnley is a small town. As a club, Burnley has experienced so many ups and downs and at the moment we're on a big We're going to have a big crowd behind us tonight and the atmosphere is going to be elettrica. In the post-season, Sean Dyche has specified that he doesn't want to sacrifice the Premier League without being able to access all costs to the Europa League game. Here we go! Non sappiamo quindi fino a che punto si spingerà il suo Barley in questa stagione. Ma le emozioni vissute all'interno e all'esterno di Tarfmoor, condite dall'entusiasmo dei tifosi, ci hanno lasciato un ricordo indelebile della città. Europa o meno, quella birra sorseggiata al The Royal Deitch ci sta già chiedendo il bis. Un sanitario Un sanitario Tulsi Grazie.